Sicuramente qualcuno di voi se lo ricorderà perché ve l'ho mostrato in un unboxing dedicato al Black Friday Sto parlando di questo Nipoji AK1 Plus Devo essere sincero, non mi aspettavo da parte vostra tutto questo interesse per questo mini PC È vero che è molto economico, ma tanti mi avete scritto su Instagram Ma potete dire che alla fine come si è comportato, va bene, non va bene, per che cosa lo utilizzi? È arrivato il momento di parlarvi di questo modello Costa all'incirca 250€, anche qualcosina in meno E che cosa abbiamo? Abbiamo questa scatolina che arriva all'interno di questa confezione che non gli daresti un centesimo Ma va bene così, magari per farci risparmiare sul costo del mini PC mi hanno detto non investiamo in marketing Tanto alla fine basta che arrivi integro Abbiamo il cavo di alimentazione, abbiamo il cavo HDMI, una piastra per attaccare il mini PC dietro il monitor Quindi andate a risparmiare anche spazio sulla scrivania E avete le istruzioni e le viti per il fissaggio della piastra Confezione a parte, che cosa ci offre questo mini PC? Questo mini PC è anche modulare, infatti in questa versione da 16GB di RAM 1TB abbiamo questa estensione Vedendo la foto ho detto che mi hanno scammato perché questo è molto più spesso rispetto a quello che avevo visto In realtà guardate si riesce a staccare Questo qui è praticamente il modulo che ti permette di espandere l'archiviazione Non ti basta un terra che c'è all'interno Qui dietro ci sono delle viti che sono facilmente removibili E poi ci sono tutti anche i supporti per il monitor Andando a rimuovere questo coperchietto avete la possibilità di andare ad aggiungere un bel SSD Magari da 2,5 pollici per l'archiviazione Poi ci sono tutti i vari supporti per il monitor come vi ho detto Io non ho voluto aggiungere al momento l'archiviazione perché mi basta e avanza quello che c'è già di default Per riavvitare semplicissimo andate a infilare di nuovo le due viti in questa maniera Siete pronti per accendere il vostro mini PC Che cosa monta? Al di là dei 16GB di RAM e 1TB di archiviazione abbiamo anche un processore Intel Non è un processore tanto noto È l'Alder Lake N100 Ma devo dire si comporta decisamente bene E funziona con un alimentatore da 30W Qui ecco uno dei motivi per cui l'ho preso Io ho già un PC fisso da gaming Il problema è che anche l'auto Office comunque consuma un botto Abbiamo tutti gli RGB, tutto il sistema, la scheda video dedicata Insomma consuma comunque anche con un semplice utilizzo Office E siccome io di Office adesso faccio tanto Che ne so, condivido le offerte oppure vado nei vari social Insomma faccio molto Office oltre che a gaming Ho detto prendo una soluzione del genere Perché nel caso dovessi ad esempio andare anche in vacanza O comunque spostarmi Posso avere qualcosa anche di tra virgolette portatile Ma non è l'unico obiettivo mio Perché questo dispositivo Come penso avrete visto nel mio precedente video dedicato a MetaQuest 3 Vorrei utilizzarlo proprio con la realtà aumentata È un applicativo che ci permette di aggiungere tre schermi virtuali Direttamente con il nostro mini PC Tra poco ve lo mostrerò Ma già ho fatto un video dedicato su MetaQuest 3 Andate a recuperarlo Cosa abbiamo in aggiunta su questo mini PC? Al di là che c'è un bel LED E dopo magari vi condivido con le varie clip Abbiamo tante periferiche che ci permettono di collegare i nostri dispositivi Abbiamo alimentazione Jack per le cuffie Cavo Ethernet Wifi Wifi 6 tra l'altro Modulo Bluetooth Per collegare eventuali cuffie o mouse e tastiere Come nel mio caso Due porte HDMI che supportano anche 4K Abbiamo due porte USB normali Per le periferiche Tipo cuffie, tastiere E ben due porte USB 3.0 Pulsante di alimentazione Bello bello completo Nonostante le sue dimensioni Quello che mi preoccupava Era proprio il fatto che Innanzitutto Avesse o meno il sistema operativo Ce l'ha già integrato Solo la licenza Windows 11 Non costa poco E lui ce l'ha già integrato Abbiamo un hardware discreto Infatti io comunque Lato Office Sono riuscito a raggiungere il mio obiettivo Tra poco magari vi faccio vedere un po' E effettivamente sono riuscito anche a collegarlo con il mio MetaQuest 3 E quindi questa è la mia postazione Posiziono il computer in questa maniera Prendo la mia tastiera Logitech Probabilmente tastiera e mouse Logitech Costano più del computer Entrambi wireless Ho il modulino qui per il mouse di Logitech Ma in realtà il mouse è anche Bluetooth Quindi non sarebbe proprio necessario 100-100 Ma io lo metto lo stesso Vado a mettere il mio MetaQuest 3 E sono pronto per utilizzare il mio computer Ma attenzione Ovviamente io non vado ad utilizzare solamente MetaQuest 3 Per il mio PC che soluzione ho adottato per fare lo switch rapido Innanzitutto lui l'ho collegato sotto alla mia scrivania E ho collegato un cavo HDMI a uno switch HDMI Costano pochi euro questi switch Praticamente tu premi un pulsante E in automatico lo schermo cambia l'origine del tuo HDMI In questa maniera Se voglio passare dal mio PC principale al mini PC Basta un pulsante Da un monitor continuo ad utilizzare il mio PC o spegnerlo Mentre con l'altro switch passo direttamente a lui Vi condivido adesso il tempo del primo avvio Parte questa schermata Vediamo quanti secondi impiega per caricare Windows Il nome Oculus Non l'ho chiamato a caso Perché alla fine La maggior parte del tempo L'ho voluto utilizzare con l'Oculus E queste sono le tempistiche Per quanto riguarda il primo avvio Che sinceramente devo dire Niente male Niente male Abbiamo come applicazioni installate Il pacchetto Office gratuito LibreOffice Anzi se qualcuno di voi ancora non dovesse conoscerlo Tenetelo a mente Perché LibreOffice È una soluzione gratis Almeno secondo me È meglio scaricare questa versione Piuttosto che una versione non legale di Word Abbiamo il browser Doppio browser Ho voluto vedere anche Chrome Per essere sicuro insomma Che non fosse problematico Da un punto di vista di utilizzo Sapete Chrome consuma tantissima RAM E nei PC economici potrebbe essere un problema Age devo dire Tantissima bella roba A parte il fatto Guardate Appena lo Guarda come si preme E avvia velocemente Age Andiamo su Google Rapidamente E abbiamo il Wi-Fi 6 Quindi in questo caso Sto utilizzando la mia fibra Andiamo su YouTube Cerchiamo Poderac E vediamo E vediamo quanto tempo ci impiega a caricare Guardate Rapidissimo Anche Magari a vedere un video Ho schippato la pubblicità Mettiamo il massimo della risoluzione E guardate Di solito nei PC economici Tende a esserci lag Mettendo anche solo il 1080p Ecco Magari proviamo un video in 4K In 2K Andando su Poderac Games Poderac Games Tipo l'ultimo video che ho pubblicato Mettiamo la risoluzione massima E guardate Senza nessun problema Carica E devo dire Molto molto fluido Davvero Un computer Che mi ha sorpreso Perché parliamo di un prezzo esiguo di 250 euro Abbiamo anche Office Come vi ho detto Tramite Libre Office Ecco per Libre Office Magari tende a utilizzare di più La scheda grafica interna Che non è dedicata E vediamo comunque Anche a scrivere il testo Velocemente Non è male E abbiamo infilato anche Se non vado errato Un bel antivirus Poderac L'antivirus nel 2023 Io consiglio sempre di installarlo Sui Windows Soprattutto se andate in siti particolari Per esempio A me capita di dover scaricare Delle mod di un gioco O comunque dei documenti Non proprio 100% sicuri Avere un minimo di antivirus Secondo me Ci sta Kaspersky per esempio Offre questa soluzione gratuita Che non costa E funziona alla grande E devo dire Sul PC Non va a influire tantissimo Gli antivirus di solito Pesano un botto Qui non ho riscontrato Alcun tipo di problema Avete visto A livello di fluidità Tanta bella roba Ebbene si direi che è arrivato il momento Di mostrarvi il mio progetto Io cosa ho pensato di fare? Ho pensato di utilizzare Il mio mini PC La mia tastiera Logitech Il mio mouse Logitech Wireless Io volendo posso andare anche In un'altra stanza Non è un problema Apro questa applicazione Che si chiama Immers E anzi Vi ho già pubblicato Un video su come funziona Si tratta praticamente Di un applicativo Che ti permette Di avere degli schermi virtuali Nel tuo PC Lui ha già due porte HDMI Che ti permettono Di avere ben due monitor Ma in questo caso Possiamo farne completamente A meno E utilizzare direttamente I monitor Che ci include Direttamente Immersi Come potete vedere In questo caso Io ho ben tre monitor Che adesso Si sono posizionati In maniera abbastanza random Ma come potete vedere Io posso spostarli Come voglio Eh ma poderhack Non si vede un bel niente Così Assolutamente Nessun problema Perché io prendo La mia manina Faccio così E voilà Vedo la mia tastiera Quindi volendo Riesco a vedere I tasti Se avete la difficoltà A leggere la tastiera Nessun problema Essendo realtà mista Con MetaQuest 3 Potete leggere i tasti Potete sempre trovare Il mouse Non dovete stare lì Come nel MetaQuest 2 Oh due cacchio È il mouse Perché non vedete Qui avendo le telecamere Riuscite a muovervi Tranquillamente Io adesso Ho ben tre monitor Che ho posizionato Come voglio Volendo Posso anche avvicinarli Basta che Premo qui Vedete E riesco anche Ad avvicinarli Quindi passo da Un monitor Da 24 pollici A un monitor Da 32 E si riesce A leggere tranquillamente Il testo Infatti Molti programmatori Spesso mi hanno chiesto Poderac Ma si può utilizzare Per programmare Sì Assolutamente Vabbè Io di programmazione Adesso Non mi ricordo Un bel niente Magari Vi posso condividere Il codice Di un sito test Qui Abbiamo fatto La struttura Non è programmazione L'HTML Attenzione È semplicemente Codice E tra l'altro Io vedete Non mi piace qui Lo posso posizionare Anche sotto O in un altro modo Posso cambiare Anche l'ordine Posso anche Decidere di Allargare lo schermo Vedete Come preferisco Ed è una figata In termini di lag Come si comporta Allora Comunque dipende Tutto dal vostro router Io ho un Fritzbox 40-60 Ma comunque Bisogna dire Che il modulo Wireless Seppur qui Wi-Fi 6 Bisogna poi vedere Il processore Come riesce A elaborare Perché Mi deve proiettare Tre monitor E altra cosa Se c'è un video Ad esempio Di YouTube Magari Tentenna un po' Adesso Apriamo anche Il browser Nel frattempo Lì c'è Il software Che mi Permette di Insomma Vabbè Oddio Non si può Programmare con Non lo so Se si può Programmare con Notepad Comunque Voi programmatori Sapete i vostri software Nessun problema Andiamo su Wikipedia Ad esempio Wikipedia Così nel frattempo Wikipedia Chiamatelo come volete Siamo liberi Di chiamarlo Come vogliamo Vedete Alla fine Si riesce Oddio Si notano Ni notate I micro lag Ci sono Assolutamente Rispetto La versione Con La porta HDMI Infatti Con la porta HDMI Queste cose Questi micro lag Non ci sono Qui probabilmente Essendo completamente Wireless Tutto quanto Qualcosina Qualcosa Potrebbe Insomma Andarsi A perdere Ma Comunque È assolutamente Utilizzabile Per l'aspetto Office Secondo me Questo potrebbe Diventare Il futuro Degli uffici Magari Non andiamo più A utilizzare Megacomputer Di qua Di là Qui Io ho risparmiato L'acquisto Di 3 monitor 3 monitor Penso Questi Possiamo Paragonarli A 3 monitor Da 50 pollici O 40 pollici Dai Siamo più buoni Andrei a spendere Almeno 200 euro A monitor 600 euro Di monitor E li vado a risparmiare Acquistandomi Un oculus Che alla fine Non vado a utilizzare Solo per questo scopo Anzi addirittura Posso utilizzarlo Per vedere Tipo Il problema lì Che vi ho detto Di youtube Magari Lagga Nessun problema Se utilizzate L'oculus Aprite il browser E navigate Direttamente Dal vostro Oculus Se dovete tornare Sul lato office Invece avete visto Non ci sono problemi Andate a collegarvi E fate quello Che vi serve Ah e avete visto anche Questa batteria Per quanto riguarda L'autonomia Sapete L'oculus Arriva a 2-3 ore Massimo Quando si fa Questo tipo di Lavoro Con la batteria Andate ad aggiungere Ulteriori 2-3 ore Questo pack Ve l'ho recensito Già in un video A di speciale Che tra l'altro Potete acquistare Delle batterie Che in aggiunta Potete andare A fare una sostituzione Senza interrompere Mai Insomma La connessione Con il vostro Oculus Tutto dipende Da quanto volete Spendere E dalla comodità Che volete Ma nel complesso Io sono qui A parlarvi Di questo Computer Che alla fine Mi ha dato Grandi soddisfazioni Se lo volete Utilizzare Con i monitor Fisici Nessun problema Io ho voluto Esagerare Adesso Mostrandovi Come io Lo sto utilizzando E mi sta piacendo Come soluzione Non consuma Tantissimo E giusto In termini di dimensioni In termini di prestazioni E soprattutto prezzo Perché parliamo di circa 250 euro Anzi si trova anche a meno Vi lascio il link qui sotto In descrizione Fatemi sapere cosa ne pensate Se avete dubbi Domande E curiosità E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao